Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Questa sera, mercoledì 11 settembre, è giunta la notizia della morte di Luca Giurato, all'età di ontaquattro anni. Lo storico conduttore televisivo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. La televisione italiana è in lutto, ci ha lasciato il grande conduttore televisivo. La notizia è stata data dalla moglie Daniela Vergara alla Denkronos, mentre si trovavano a Santa Marinella per godersi gli ultimi giorni d'estate. La carriera di Luca Giurato è iniziata nel 1992-1993 con a tutta stampa, una rassegna stampa all'interno del Tg1 Notte. Successivamente ha acquisito notorietà grazie alla partecipazione a programmi come Domenica Inn con Maravenier, Uno Mattina e vari reality show, tra cui L'Isola dei Famosi. Nel 2004-2005 ha condotto Italia che vai, insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti, il sabato pomeriggio su Rai 1. Dal 15 settembre 2008 è stato opinionista alla sesta edizione dell'Isola dei Famosi con Maravenier e ha partecipato anche come opinionista a I Raccomandati. Luca Giurato ha ottenuto una vasta notorietà anche per le numerose gaffe di cui è stato protagonista. In particolare si ricordano le clip riprese dalla Jalapas Band nel programma Mai dire gole da Striscia la notizia.